Buonasera, buon anno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TG2000. I dati odierni sul contagio confermano che la curva epidemica non accenna a scendere e l'indice di positività sale al 14,1%. Intanto la BioNTech lancia un allarme, servono altre dosi da soli, non ce la facciamo. Il servizio di Luigi Fraiuolo. A rischio l'approvvigionamento di vaccini in Europa, l'amministratore delegato del Pfizer BioNTech, Ugur Sain, ha chiarito in un'intervista rilasciata al settimanale teresco Der Spiegel che ci saranno lacune nella fornitura delle dosi in Europa, fino a quando non saranno approvati gli altri vaccini, nonostante Pfizer stia lavorando a pieno ritmo per garantire la produzione del farmaco. Intanto sono 22.000 i nuovi casi di contagio rispetto a ieri, nonostante la pausa festiva che rallenta le segnalazioni. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 462, mentre il tasso di positività è salito al 14,1%. Da San Silvestro è disponibile sul sito web della Presidenza del Consiglio il monitoraggio dei vaccini arrivati e delle persone immunizzate, regione per regione. Al 1 gennaio sono stati vaccinati oltre 32.000 italiani. Piemonte, Lazio e provincia autonoma di Bolzano le aree più virtuose nella somministrazione. Nel frattempo, da oggi e fino al 6 gennaio, l'Italia rimane in zona russa. Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Continua a essere vietato spostarsi fuori regione. Chiusi negozi, bar e ristoranti, anche le feste e gli assembramenti sono vietati. Unica eccezione il 4 gennaio. I negozi saranno aperti e anche parrucchieri e centri estetici. Il 7 gennaio l'Italia torna in giallo. Dopo l'Inghilterra ha provato in India il vaccino AstraZeneca, ancora fermo in Europa. Quasi 10 milioni finora i vaccinati nel mondo. Piazze vuote nella notte di San Silvestro, feste vissute in casa, controlli serrati delle forze dell'ordine, ma non sono mancati i botti di fine anno e c'è da registrare anche una vittima, Vito del Torre. Diciamo che non può che essere migliore quello nuovo, quindi ci auguriamo tanto in un anno migliore veramente, perché siamo stati travolti da tante cose, emozioni molto forti, vedere gente che soffriva non è stato bello. Con loro non posso far altro che sperare nel nuovo anno. Fiducia o speranza? Speranza sì. Fiducia non lo so. Questa mattina a Roma si presentava così le strade del centro, deserte. C'è chi furtivamente scattava una foto davanti al Colosseo per immortalare il primo dell'anno e chi, nonostante le restrizioni, faceva due passi a Fontana di Trevi, incappando però nei controlli delle forze dell'ordine. In tutta Italia 67.000 accertamenti nelle ultime 24 ore, circa 1.500 le persone sanzionate. Chiusi 21 esercizi commerciali. I botti di fine anno sono esplosi in piazze e strade vuote. Qui siamo a Brescia. A Roma il colonnato di piazza San Pietro era illuminato dai bagliori dei fuochi d'artificio. Anche quest'anno Napoli si è confermata la capitale dei botti. E a Milano, in via Padova, c'è chi, pistola in pugno, sparava in aria a quattro colpi. Il primo bilancio dei botti di Capodanno è di un morto e 79 feriti a perdere la vita un adolescente di Asti residente in un campo Rom. Il giovane sarebbe arrivato al pronto soccorso con gravi ferite all'addome, causate, sembrerebbe, da un petardo. Gli investigatori però non escludono che la ferita mortale sia stata provocata da un'arma da fuoco. A Roma centinaia di uccelli terrorizzati e disorientati dai botti sono morti dopo essere andati a sbattere contro i cavi dell'alta tensione. Il capo dello Stato, nel suo discorso di fine anno al paese, seguito da oltre 15 milioni di italiani, ha invitato a reagire con spirito costruttivo per uscire dall'emergenza e ha anche sottolineato che vaccinarsi è un dovere. Io lo farò appena possibile, ha annunciato. Il servizio è di Leonardo Possati. Questo è il tempo di costruttori. I mesi prossimi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza. Un discorso privo di formalità per spronare l'Italia affinché si rialzi dal drammatico 2020. Sono giorni questi in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere. Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete. Il Presidente ricorda questi lunghi e difficili mesi, la paura, lo sconforto, i morti e il dolore che hanno travolto il paese senza dimenticare le pesanti conseguenze sociali ed economiche. Adesso però, con il nuovo anno, arriva il vaccino. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Un dovere anche per il Capo dello Stato. Io mi vaccinerò appena possibile. Questo è il momento di ricostruire con responsabilità e senso del dovere. Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la parte propria. Il 2020 segnerà un nuovo record di crediti IRPEF, superando i 23 miliardi di euro. In un decennio i crediti IRPEF sono saliti del 50%, passando da 14,8 miliardi del 2009 ai 22,2 del 2018. A vantarli circa la metà dei contribuenti italiani, quanto emerge da un'analisi di Elexia, che sottolinea come il boom dei crediti IRPEF derivi dalle ristrutturazioni di immobili. Un anno di sfide impegnative attende il governo, che dovrà subito risolvere la questione del recovery e poi provare a superare le tensioni interne alla maggioranza. Ci dice tutto Augusto Cantelmo. Tutti si dicono costruttori, ma il rischio è che si rompa tutto. L'anno politico si apre come si è chiuso col braccio di ferro con Terenzi. L'appello del Capo dello Stato nel discorso di fine anno di perseguire il bene comune, e non quello particolare, rischia di rimanere inascoltato. Con Terenzi mantengono le posizioni e non si intravede al momento una via d'uscita. Nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio ha invocato comunque in caso di crisi il passaggio in Parlamento, che resta tuttavia molto rischioso anche per lo stesso presidente del Consiglio. Ho semplicemente detto che se ci sarà una... verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza, ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti quanti esprimeranno la propria posizione. Di certo al momento sarebbero due gli scenari più improbabili. Da una parte il mantenimento dello status quo, ossia che non succeda nulla. Dall'altro il ritorno anticipato alle urne. Per il resto tutto è possibile, da un rimpasto al Conte Terro, addirittura a un nuovo governo con un nuovo presidente del Consiglio. E i nomi non mancherebbero. Nei prossimi giorni si proverà a trovare un punto d'intesa nella gestione dei soldi per la ripartenza dopo il Covid, il cosiddetto Recovery Fund. Conte è intenzionato a presentare i piani aggiornati in Consiglio dei Ministri dopo la Befana e a partire dal giorno seguente iniziare il confronto con le parti sociali e poi attendere il contributo del Parlamento. La notte del primo dell'anno sono state tratte in salvo 169 persone, tra cui sei bimbi piccolissimi, grazie all'intervento dei volontari di Open Arms, l'unica ONG tornata in mare che ha trascorso così le ultime ore del 2020 e le prime del 2021. Non esiste Natale o Capodanno quando si fugge dalla violenza, che sia anche per loro un buon inizio. Continuiamo, scrive su Twitter così la ONG spagnola. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha inviato una lettera ai Paesi membri per chiedere di nominare loro osservatori da inviare in Libia con il compito di sovrintendere al cessato il fuoco e per indurre i leader politici del Paese a mettere a punto un meccanismo per eleggere il nuovo Primo Ministro. Si tratta della prima volta che l'ONU intraprende iniziative attive sul terreno per garantire il rispetto del cessato il fuoco. A Wuhan hanno festeggiato il Capodanno in piazza a dimostrazione che per loro l'epidemia è ormai alle spalle. Non è così ovviamente per noi. Anzi, in Gran Bretagna i casi giornalieri superano sempre abbondantemente i 50.000 e la Francia anticipa anche il coprifuoco. Antonio Sofiero. A Wuhan, dove è nata la pandemia del coronavirus, centinaia di persone hanno assistito ad uno spettacolo pirotecnico e ballato tutta la notte per celebrare il Capodanno. Un team di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe arrivare in Cina all'inizio di gennaio per indagare proprio sulle origini del Covid-19. Ma se Pechino continua a sostenere che la pandemia è sotto controllo, non è così altrove. Gli Stati Uniti superano quota 20 milioni di casi. Le vittime invece sono più di 346.000. Situazione preoccupante anche in diversi paesi europei. La Gran Bretagna, da oggi fuori dall'Unione Europea, registra altri 613 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono invece più di 53.000, una cifra simile a quella dei giorni precedenti. In Francia da domani il coprifuoco sarà anticipato alle 18, dalle 20 attuali in 15 dipartimenti e non riapriranno il 7 gennaio i luoghi culturali, teatri e cinema come previsto inizialmente. La Germania, infine, registra quasi 23.000 nuovi casi e 553 vittime in 24 ore. Numeri migliori di ieri, ma Berlino valuta lo stesso di prolungare di altre due o tre settimane il lockdown oltre il 10 gennaio. Sviluppare una mentalità e una cultura del prendersi cura. Questo è l'augurio di Papa Francesco, che pur sofferente per la sciatica, ha guidato il primo Angius del 2021. Paolo Fucili. Si tratta di sviluppare una mentalità e una cultura del prendersi cura al fine di sconfiggere l'indifferenza, lo scarto, la rivalità. È così che si costruisce la pace, predica Francesco oggi a mezzogiorno, primo Angelus del 2021 per la solennità di Maria, Madre di Dio, giornata mondiale della pace. Il mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di svago, nelle comunità e nelle nazioni. Tutti, esorta il Pontefice, siamo chiamati a realizzarla ogni giorno, tendendo la mano al fratello, bisognoso di conforto, tenerezza, aiuto. Il 2020 ci ha insegnato con la pandemia quanto sia necessario interessarsi a problemi e preoccupazioni altrui. Perciò Francesco pensa anche alla Nigeria, ricordando il vescovo rapito domenica scorsa e alla guerra che si è riaccesa nello Yemen. Pensiamo ai bambini dello Yemen, senza educazione, senza medicina, affamati. Al Presidente della Repubblica, Mattarella, va un grazie per il pensiero augurale ricevuto ieri. Il ricambio di cuori. Era stato invece il Cardinal Parolin, segretario di Stato, a celebrare stamane la Messa a San Pietro, dato il riacutizzarsi da ieri della sciatalgia del Papa, apparso comunque sorridente e rilassato. E a tutti auguro un anno di pace, un anno di speranza. Parliamo ora di nuove nascite. Tanti sono stati i vagiti dei neonati che hanno salutato il 2021. Il primato del primo nato del nuovo anno se lo contendono Alessandro e Aurora. Il primo è nato all'ospedale Cristore di Roma, un secondo dopo la mezzanotte, e sempre allo scoccare della mezzanotte è venuta la luce Aurora, alla casa di cura Santa Famiglia. La nascita d'Aurora rappresenta oggi più che mai una luce di speranza in un periodo di grande dolore per l'interumanità, ha commentato così Donatella Possemato, direttrice della struttura. La vita, quindi, è sempre più forte di qualunque paura. Ma quali responsabilità, aspettative e significati ha avuto mettere al mondo un figlio nel 2020? Scopriamolo nel servizio di Barbara Masulli. Lei è benedetta ed è la gioia che il 2020 ha portato a Valeria e a suo marito. Una gioia immensa, ma decidere di mettere al mondo un figlio in piena pandemia non è stata una scelta facile. La mia seconda figlia dopo 17 anni e quindi in questo momento di pandemia ci vuole veramente coraggio. Però ne vale la pena. Valeria ha vissuto la gravidanza con ansia. Perché era come se doveva proteggere per due, no? Si chiude con una luce questo 2020? Una bellissima luce. Chiudiamo proprio gli ultimi giorni. È nata il 28 e questa è stata una grande gioia. È come se fai il sospiro di sollievo e vedi questa luce bellissima. Al Policlinico Gemelli di Roma nel 2020 sono nati circa 3.900 bambini. Di questi, 80 sono stati parti Covid. È stato un anno sicuramente, diciamo, difficile per noi da un punto di vista organizzativo perché abbiamo dovuto vedere mescolate le due percorsi differenziati. Quello fisiologico e poi quello che ci è capitato di improvviso di organizzare in primavera delle gravidanze Covid che ha imposto una revisione importante non solo dei percorsi ma anche delle nostre modalità di azione in persone che ovviamente essendo ostetrici o neonatologi non pensavamo mai dover gestire un'emergenza di questo genere. Anche Vittoria è nata il 28 dicembre. Che significa mettere al mondo un figlio, una figlia nel 2020? È una vittoria per tutto quello che quest'anno per noi ha rappresentato. Un anno che è stato difficile per tanti motivi. Il primo Covid a settembre sono stata ricoverata per una minaccia d'aborto però abbiamo visto e vissuto questo periodo sempre con positività e ogni giorno era un dono che il Signore ci regalava. È una nuova ondata di maltempo interessa il nord-ovest d'Italia con nevicate fino in pianura sul Piemonte copiose sulle Alpi sopra i 500-700 metri all'erta valanghe nell'Alto Veneto e la provincia di Lucca ha chiuso il transito su alcune strade in Garfagnana per effetto delle intense nevicate in corso. Maltempo anche sulle regioni tirreniche in Sardegna, sulla Sicilia orientale sulla Calabria e in Basilicata. Nel primo giorno del settecentenario della morte di Dante Alighieri la Divina Commedia rivive sul web. A partire da oggi visibili online sul sito degli Uffizi tutti i disegni che illustrano il poema. Il servizio di Clara Iatosti. C'è un tesoro da riscoprire a settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Le gallerie degli Uffizi mettono online sul proprio sito www.uffizi.it la mostra virtuale a riveder le stelle con gli ottantotto disegni di Federico Zuccari per la Divina Commedia. Un'occasione unica. Molte persone sono stati esposti solo in parte e solo due volte nella grande festa nazionale a Firenze nel 1865 che celebrava Dante come festa dell'unità italiana e una selezione in Abruzzo nel 1993. Adesso invece a qualsiasi ora del giorno e della notte sono disponibili a tutti quanti attraverso il sito web degli Uffizi e con un commento scientifico. I disegni sono stati digitalizzati in alta definizione eseguiti dal pittore marchigiano sul finire del Cinquecento sono il più imponente complesso illustrativo della commedia realizzato prima dell'Ottocento. Creata tra il 1586 e il 1588 durante il soggiorno di Zuccari in Spagna l'intera raccolta è entrata nella collezione degli Uffizi nel 1738 grazie alla donazione di Anna Maria Luisa De Medici elettrice palatina. È morto a 89 anni il designer Ernesto Gismondi il fondatore e presidente di Artemide Group uno dei principali operatori nel settore dell'illuminazione pluriprimiato a livello internazionale ed è stato tra i grandi protagonisti del Made in Italy nel mondo per il design ed avanguardia. Sono stati sempre in prima linea sul fronte Covid hanno profuso energie e molti hanno sacrificato la loro vita. Ci riferiamo al personale medico e sanitario a cui in questo primo giorno del 2021 TV2000 vuole dedicare un ricordo particolare attraverso Christmas in Gospel and Symphony il concerto di Capodanno che trasmettiamo ora dopo il TG dalla Basilica Pontificia di San Nicola in Bari. Nicola Ferrante Abbiamo ascoltato le sirene della polizia a suonare a distesa per dare coraggio ai medici impegnati in prima linea li abbiamo visti bardati nelle corsie Covid ad affrontare il virus invisibile e abbiamo applaudito anche all'impegno di quelli che purtroppo hanno perso la vita per tutti loro ma anche per quelli che sono ancora nelle trincee delle corsie e adesso si preparano a un'altra campagna impegnativa quella vaccinale TV2000 stasera trasmette il concerto di Capodanno organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri un concerto dedicato ai medici e agli operatori sanitari che ogni giorno lottano contro il coronavirus un omaggio agli oltre 270 medici che hanno donato la loro vita per curare i cittadini affetti da Covid-19 in onda dalla Basilica di San Nicola Bari non mancherà sotto lo sguardo di il santo la speranza per un 2021 più sereno a suonare l'orchestra sinfonica della città metropolitana di Bari la musica si fa così riflessione ma anche tributo per coloro che abbiamo chiamato eroi e che in questo nuovo anno l'anno in cui tutti speriamo di venire fuori dal tunnel della pandemia saranno sempre al nostro fianco per tutelare il bene più prezioso la salute appuntamento stasera su TV 2000 alle 20.50 bene termina qui il telegiornale ora il meteo è a seguire appunto dalla Basilica Pontificia di San Nicola in Bari il concerto Christmas in Gospel and Symphony in memoria dei medici caduti nella lotta al Covid e in onore degli operatori sanitari ancora in prima linea arrivederci e da tutti noi a tutti voi ancora buon anno a tutti